Dopo una lunga rincorsa, finalmente il Ludwig Pub conquista la zona Pontina League estiva, succedendo così ai ragazzi della Nuova Don Luca, campione in carica. Per Natalino Stevanella, padrona dei Bianco Torati, si tratta del primo successo in un circuito zona Pontina. Stesso discorso per i secondi classificati di Palestra Olimpia, sconfitti con onore 3-1 nella finalissima disputata al centro sportivo Eucaliptus. Partita bella e avvincente, con un ritmo subito alto sin dai primi minuti. È proprio Palestra Olimpia a partire meglio, occasione subito per Stefano Piggini, che serve nello spazio vernillo che c'entra Napolitano. La prima occasione per Olimpia, ma anche la seconda, con Squarcia Neri, che ruba Pallamarini di sinistro. Sta affilata che si perde di poco a lato. La prima occasione del Ludwig porta la firma Racciatti Marini, il numero 8 serve il numero 11, che di punta impegna Apostolico. Seconda occasione consecutiva ancora per Marini, un dribbling sulla sinistra, destro sul primo palo, ma ancora il piede di Apostolico. Salva Palestra Olimpia. La reazione è proprio dei Rez. Squarcia Neri serve Piggini, che entra al centro, ma Napolitano ipnotizza il centrale dei Rez. Ancora un'occasione per Vernillo, ma di nuovo Napolitano presente tra i pali. Il portiere di Ludwig è molto impegnato in questi primi minuti. Piggini ha un'altra grande occasione, va sul secondo per servire Squarcia Neri, ma il sinistro, il numero 7 Rez, non arriva a impattare il pallone. Ancora Stefano Piggini protagonista, va sulla destra, il tiro, Napolitano sembra abbattuto, ma la palla va di poco fuori. La reazione di Ludwig arriva con Ciocca, che sulla destra va a colpire l'esterno della rete. Ludwig cerca di reggire, allora ancora Marini, il suo sinistro, ma Apostolico manda nuovamente in angolo. È una partita molto combattuta, Stefano Piggini ruba palla, lancia in profondità, squarcia Neri da solo davanti a Napolitano, ma il suo sinistro va a colpire il palo interno. Occasione buona per Olimpia, ma arriva il gol del Ludwig. Racciatti sfruttano indecisione della retroguardia. Olimpia e di piattone va a centrare il palo mettendo il pallone in rete, è il vantaggio per il Ludwig. Ma palestra Olimpia regisce immediatamente, perché stavolta Verniglio supera Fusco e trova l'angolino vincente, battendo Napolitano e riportando il risultato in parità. Una parità che forse sta stretta per le occasioni avute proprio dai ragazzi di Giovanni Tarantino, che vanno ancora a rendersi pericolosi, perché Marco Piggini serve di nuovamente Verniglio. Di nuovo si libera, il suo sinistro neutralizzato da Napolitano. Riesce a uscire fuori adesso il Ludwig, è proprio Marini che riesce a superare Piggini, ma il suo tiro va sul palo. Adesso ha altra occasione, Tarantino squarcia Neri, il diagonale del mancino di palestra Olimpia invece termina fuori. Un primo tempo tutto di marca Olimpia, ma nel secondo tempo riparte subito forte la formazione del Ludwig, con un bel tiro di Crescenzo di Vado Apostolico. Adesso è Racciatti che ha una buona opportunità, scambia con Crescenzo, va a tirare, Marco Piggini salva tutto, Ludwig parte subito forte. La reazione di Olimpia è però con Verniglio che serve Piggini sulla destra, Marco Piggini, il pallone deviato da Napolitano fuori. Nel controbiede sa far male ai Ludwig, Racciatti serve Marini, para però ancora Apostolico che tiene in vita i suoi. Sul risultato di 1-1 è ancora dura trovare lo spazio per trovare il gol, Tarantino va a superare Medde, il tiro di punta troppo centrale e Napolitano può respingere. Ma attenzione a Medde perché ruba palla, parte da solo, li supera tutti e di sinistro va a trovare l'angolino vincente che batte Apostolico, porta in vantaggio il Ludwig e mette una serie ipoteca su questa zona pontina ligestiva. Adesso un'altra palla rubata, Fusco va a servire, Racciatti niente da fare, Ludwig adesso può far male, Palestro Olimpia è leggermente in difficoltà. Ancora una palla per Fusco, lo scambio con Racciatti, trova la corrente Martucci, il piattone è vincente, battuto Apostolico 3-1 e adesso per Palestro Olimpia è davvero dura perché Ludwig continua ad andare avanti. Lo scambio di Racciatti, serve Medde, Medde punta Marco Viggini, riesce a dribrarlo, il tiro, la palla finisce fuori di poco. C'è l'onore per Palestro Olimpia ma Ludwig continua ad andare in avanti, Martucci adesso impegna Apostolico. L'ultima occasione per Palestro Olimpia è proprio con un tiro libero per un fallo su Tarantino, va a squarcia neri sul dischetto ma Napolitano è ancora attentissimo. E questa è l'ultima occasione della partita perché al tripice fischio il risultato è 3-1 per Ludwig Pab, campione della zona pontina ligestiva 2014. A presto!